luna dici cerco casa chi mi prende perché qui mi vogliono uccidere perché sono una rompipalle Sherlock è vero che è una rompipalle? è vero Sherlock? quanto rompe luna? quanto rompe luna? Lui da andute! Lui che ci sono andato! Non ci sono le pinche, non ci sono le pinche! Ma dobbiamo andare a fare la robabuatciano delle nostre espagge!